Oh Luigi, aspetta, 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 che c'è? Che mi sono rotto il cazzo! Passa la voce, passa la voce! Ma no, dici cosa c'è? Ascolta, dentro il furgone c'è una cassaforte, ok? Quello che lavoro con me, ad ogni giro si ferma, prende i sacchetti negli uffici con i soldi e li mette sul furgone, ci sei? Tutto chiaro? Tu sei piccolo, basta che ti metti nella cassaforte, quando quando scende, tu scambi i sacchetti e il gioco è fatto! Poi noi molliamo gli speciali finti, quando è finito il giro e BOOM! Siamo miliardari! Costa Rica! Ma sei serio? Sono serissimo! Guarda là, guarda! Cimento! Solo quel cazzo di cemento! Noi dobbiamo fare qualcosa, io non ce la faccio più ad aspettare, dobbiamo fare qualcosa! Luigi, tu ti vuoi fare vent'anni di carcere piuttosto che vent'anni alle poste? Perché c'è differenza? Oh ma vedi che ci ho pensato, fidati di me! E' una cosa facile facile, neanche volento lo sbagliamo sto colpo, eh? Ti fidi? Eh, a tua parole sei bravo, eh? Vabbè, vorrei dire che il sciringhito me lo apro con qualcun altro, va bene? Aspetta, aspetta dai dai dai! Che cazzo! Uno deve anche capire, no? Noi però che ne sappiamo di sta roba! Ti fidi di me? No! Vedrà che ti fiderai! Fidati di me! Da che ti spiego, da che ti spiego!